Ciao a tutti, bentrovati per la presentazione di alcuni dei prodotti della linea Captur per il 2010, oggi parleremo della nuova serie di fili, pertanto per cominciare il Captur Spincast, si tratta di un filo neutro con diametri che vanno dal 14 al 30, estremamente versatile per tutti i tipi di pesca, bobine da 150 metri, come ripeto adatta a qualunque tipo di pesca, resistentissimo al nodo, bassissima memoria, ottimo rapporto qualità prezzo, adattabile a tutti i tipi di nodi, sia in acqua dolce che in acqua salata. Nuovo anche per il 2010, lo Spin Zander, con diametri che variano dallo 0,20 allo 0,40, adatto per tutti i predatori d'acqua dolce di profondità, in un colore leggermente marroncino, camo, quindi adatto anche ad acque velate. Questo filo ha bassissima memoria, bassissimo coefficiente di elasticità, molto sensibile anche pescando con esche pesanti su fondali piuttosto profondi, 10, 15, 20 metri e permette ferrate sicure necessarie per tutti i pesci con un apparato boccale piuttosto forte, come possono essere i luci, come possono essere i piccoli siduri o i luci perca. Anche in questo caso il filo bensì adatta a tutti i tipi di nodi, quindi dal palomar all'uniclinch senza nessun problema. Un altro filo, sempre sulla falsa riga dello Spin Zander, è lo Spin Pike, ancora più pronto, ancora più resistente all'abrasione, ancora più resistente al nodo, con diametri più importanti dallo 0,25 allo 0,40. Infatti quando si pesca il luccio nello spinning, soprattutto con jerk, soprattutto con esche piuttosto voluminose e pesanti, è importante avere un filo che innanzitutto si mimetizzi. In questo caso è stato ideato un colore camo ideale per ambienti ricchi di vegetazione o con acque velate, verdi, marroni, sporche, tipiche degli habitat dei luci. Resistentissimo all'abrasione, come dicevo, resistentissimo al nodo e con un coefficiente di elasticità bassissimo per avere la massima sensibilità sia in ferrata che durante il recupero dei nostri jerk, dei nostri crank o delle esche piuttosto voluminose che decideremo di utilizzare per insediare le soccide. Oltre a questi, la linea Captur lancerà l'anno prossimo, sempre dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, un filamento, il Captur Fluor Spin. Si tratta di un vero e proprio filo, completamente in fluorocarbon, che rispetto ai fluorocarbon tradizionali è di facilissimo utilizzo. Infatti il pregio del fluorocarbon, cioè la totale e assoluta invisibilità nell'acqua, la fondabilità rispetto ai monofili tradizionali, lasciava desiderare dal punto di vista del lancio piuttosto che della memoria. Questo filo invece, che è un fluorocarbon, ha gli stessi comportamenti dei monofili tradizionali, quindi può essere imbobinato senza nessun problema e permette gli stessi lanci di un ottimo monofilo tradizionale. E può essere impiegato sia in acqua dolce che in acqua salata, non solo per finale, ma per una pesca spinning con diametri che vanno dallo 0,18 allo 0,30, quindi per il 90% delle battute di pesca che faremo, ripeto, sia in acqua salata che in acqua dolce. Infine, importantissimo, un prodotto completamente nuovo, il Vertical Jig Mono, sempre dalla linea Captur, multicolor. Questo, a differenza degli altri, viene venduto in bobine da 300 m e offre una caratteristica importantissima, ogni 10 m cambia colore, quindi grazie a questa sua caratteristica noi riusciamo a capire a che profondità stiamo pescando e a che profondità stazione il pesce. Anche questo viene venduto in bobine da 300, come ho detto, con diametri piuttosto importanti, dallo 0,30 allo 0,50, molto rigido, zero memoria, bassissima elasticità, adatto a tutti i nodi, ma grazie al suo carico di rottura e alla sua elasticità, si consiglia di impiegarlo sempre con nodi Palomar o Uniclinch, che sono più sicuri, soprattutto il Palomar. Proseguiamo il discorso Fili con i Multifibra della linea Captur, partiamo con il Dinatex Spin, che è un Multifibra di colore verde, quindi mimetico, ottimo rapporto qualità-prezzo, venduto in bobine da 150 yard, cioè 135 metri, quindi adattissime a tutte le, per la maggior parte delle bobine, dei mulinelli da spinning, va più che bene, una capacità di 150, una lunghezza di 150 metri. Viene fornito in diversi diametri, dallo 0,12 allo 0,24 per carichi di rottura che vanno dagli 8,16 kg fino ai 18,14. I monofili vengono impiegati per avere la massima sensibilità sia durante l'azione di recupero, l'azione di pesca, che nella fase di ferrata, in quanto hanno un'elasticità realmente pari a 0, vengono impiegati per tutti quei predatori che necessitano di ferrate decise, quindi per la pesca in mare piuttosto che per luci e luciperca. Accanto a questo nuovissimo, e ripeto, dall'ottimo rapporto qualità-prezzo Multifibra, viene venduto un altro Multifibra appositamente studiato per il Vertical Jigging, che come il Vertical Jig Mono, offre una variazione di colore ogni 10 metri, quindi per coloro che decidono di pescare a Vertical Jigging ed avere una prontezza di ferrata ancora maggiore, magari pescando su fondali significativi, 50, 100, 150 metri, noi consigliamo un Multifibra di questo tipo che, oltre a garantire una ferrata sempre all'altezza, dà la possibilità di capire anche a che profondità si sta pescando e a che profondità stazionano i predatori. Molto importante per quanto riguarda i Multifibra, sia il Dinatex Spin che il Dinatex Vertical Jigging, è ricordare a tutti i clienti, a tutti i fruitori che è importantissimo utilizzare sempre il nodo Palomar, infatti a causa della sua rigidità non questo Multifibra, ma tutti Multifibra necessitano di nodi particolari, il Palomar, nodo semplice, è in assoluto il nodo migliore per tutti i Multifibra e non permette al Multifibra, una volta fissato, di slittare, garantendo il 95-99% del carico di rottura del filo o del Multifibra impiegato. Abbiamo parlato tanto del nodo Palomar, ci sembra corretto anche mostrarlo ai nostri amici. Prendiamo una girella, un moschettone o ciò che dobbiamo legare, prendiamo il Multifibra, lo passiamo, lo ripassiamo, in modo da creare un cappio da una parte. Ora, molto semplicemente, facciamo un nodo semplice, eccolo qui. E facciamo passare la nostra girella nel cappio che abbiamo fatto all'inizio. Bagniamo con una goccia d'acqua o di saliva per aiutare allo scorrimento e tiriamo. Ecco, il nodo è fatto.